Sentito, velocemente, c'è una formazione antinapoli che vi può solluccherare o è quella solita che incominciamo sempre tutti quanti a conoscere con magari l'eccezione del co-equipied avanti per Vucinic? Luigi? No, io mi fido ciecamente di quei tre, adesso anche io li chiamo quei tre, no, quei tre però nel senso di Conte, Carrera e Alessio, insomma che sicuramente la squadra che andrà in campo sarà assolutamente competitiva anche perché... Guarda che bella che è questa maglia, questa Juve, questa scritta, così, questa qua. Sulla carta, poi il calcio ci fa vedere tantissime cose, sulla carta la Juve è nettamente più forte del Napoli. Ma tu sei un po' come Mazzarri, poi tu sei in Africa, sei ancora in Africa tu quando sei in Africa, perché con questo pronostico... Io vado giù a festeggiare il Togo che si è qualificato in Coppa d'Africa, non il Toro, è il Togo, il Togo che si è qualificato in Coppa d'Africa con un grande Adebayor. Perché questi due signori sono per motivi diversi dei grandi viaggiatori in Africa, perché Luigi scrive libri e va a raccogliere, a setacciare degli aneddoti, io spero anche che tu un giorno ci porterai un giocatore bianco-nero, nero, lo porti tu, quindi bianco-nero al quadrato. Non me lo permetteranno mai. No, però se vedi qualcuno secondo me lo segnalerai. Mentre il dottor Giuseppe Beppe Di Meglio... E fa cose serie. Fa una cosa ancora più seria, anche la tua è molto seria, anche la tua è molto seria, perché è molto scientifica, molto professionale giornalisticamente. Non fa cose comiabili. Lui è un oculista che poi fa parte anche di questa organizzazione benemerita, che si chiama Emergency. Che cos'è Emergency, dottore? Emergency è una ONG che ha la peculiarità di arrivare quando scoppia una guerra, per cui mentre altre ONG tornano a casa per motivi di sicurezza, Emergency arriva per curare le vittime civili. E tu sei tra quelli che prende parte e va in Cambogia? Sì, abbiamo fatto l'Asia, la Cambogia, abbiamo fatto l'Africa, la Burkina, il Togo, la costa occidentale. E cosa vai a fare? Gli operi? Sì, io faccio l'oculista, perché vado a fare il mio lavoro gratuitamente e così andiamo a dare un apporto, un aiuto diretto, che non è da tutte le professioni dare, per cui ho la fortuna di fare una professione che ti permette di dare un aiuto diretto a queste popolazioni. Ma una sciarpa bianconera in sala operatoria non bianca mai. C'è sempre, c'è sempre. Benaugurante. Benaugurante. Tra l'altro, il dottor Di Meglio ha organizzato un aereo per la fabbrica del Sorriso o qualcosa del genere? Sì, abbiamo organizzato tre anni fa un aereo che è andato in Burkina Faso, abbiamo attrezzato l'aereo con due sale operatorie interne, siamo andati giù con questo vecchio Fokker dell'80, con qualche tappa, insomma il viaggio è stato un po' racambolesco, ma è stata una missione molto interessante. Africani hai fatto tornare alla vista? Abbiamo operato 100 ragazzi in due settimane. E loro, grazie alla tua operazione, potranno vedere o possono seguirci su streaming cliccando www.quartarete.tv e guardare a Juve contro tutti. Io vedo da un altro punto di vista, sembra così un gioco di parole, lui è oculista, eccetera. Però voglio dire, se non arriva lui, se non arrivano loro, l'alternativa è drammatica, stiamo parlando di popolazioni animiste. Gli stregoni. L'alternativa è lo stregone che opera come facevano gli antichi egizi, con dei punteruoli non sterilizzati in legno, provocando disastri.